Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTP Channel, io sono Ali e quest'oggi vi parlerò di Almanacco Topolino numero 18. Eccolo qui, Almanacco Topolino numero 18, finalmente ragazzi, in edicola, dopo quasi 4 mesi, perché il numero 17 era uscito all'inizio di dicembre 2023, questo numero è uscito ufficialmente oggi, che siamo appunto a giovedì 28 marzo 2024, è uscito finalmente il diciottesimo numero di Almanacco Topolino, che come ben sappiamo è diventato trimestrale, infatti ce lo dicono anche qui nell'editoriale iniziale. Ragazzi, Almanacco Topolino ovviamente consta di 130 pagine, con l'alternanza anche di alcune storie in bianco, nero e colore, il prezzo di 5,90, come detto, è diventata da questo numero una collana, una testata trimestrale. La copertina, come ben sappiamo, insomma, per chi legge Almanacco Topolino, ma io mi rivolgo anche a chi non l'ha mai letto, le copertine del Almanacco Topolino rendono omaggio alle vecchie copertine del Almanacco Topolino, quindi la copertina disegnata da Emanuele Baccinelli e colorata da Mario Perrotta, è una rivisitazione, in questo caso, della copertina di Almanacco Topolino numero 44 uscito nel lontano agosto 1960. Qui era il disegnore di Marco Rota, qui appunto, diciamo che Emanuele Baccinelli è molto bravo, qui al posto di Iziomo Perone ha messo Paperino. Lo sfondo è giallo, la scritta è rossa con il lievo nero Almanacco Topolino, su sfondo verde, scritta gialla Disney. Vi faccio vedere anche la costina, qui il numero 18 in nero, scritta nera Disney, rossa con il lievo nero Almanacco Topolino, poi c'è appunto il logo di Panini Comics. In quarta ricopertina troviamo alcune delle vignette che vedremo, delle storie che poi andremo a leggere. Tante storie, tanti personaggi, più divertimento, una ricca selezione di storie dall'estero e dei grandi maestri Disney. Ragazzi, Almanacco Topolino, in questo caso il numero 18 si apre così, la pubblicità di Paper Mitologia, là il disegno appunto di Emanuele Baccinelli è riproposto, c'è il sommario e ovviamente l'introduzione del curatore Davide Del Gusto, che come sappiamo dal numero 9 in poi ha preso in mano le redini sostituendo il compianto e bravissimo Luca Boschi. Qui vediamo appunto il sommario che consta appunto di 11 storie e 7 redazionali che in realtà sono 6, poi c'è anche un portfoglio. Nell'introduzione, nell'editoriale insomma del curatore Davide Del Gusto, ci parlano del fatto che col numero 18 appunto Almanacco Topolino giunge un ulteriore giro di boa passando una periodicità, scusate, trimestrale. La testata continuerà a proporre il suo ricco menù di avventure straniere inedite e in ristampa. Nel percorso già avviato da Luca Boschi ormai tre anni or sono, sì perché Almanacco Topolino, il primo numero uscito nell'aprile 2021, e comunque vedendo qui il sommario si può vedere che la prima e l'ultima storia sono ristampe dei vecchi Almanacco Topolino ma come è da sempre insomma l'anima dell'Almanacco, ma è stato anche l'anima di Mega Almanacco, Mega 2000, Mega 3000, all'interno tutte storie inedite d'Italia, edite all'estero, quindi la vera anima di Almanacco insomma è sempre stato quella di proporre anche storie inedite e in questo caso ovviamente abbiamo anche le ristampe dei vecchi Almanacco ma insomma andiamo a vedere il sommario. Prima c'è un redazionale furfante in maschera che ci introduce la prima storia che è tratta da Almanacco Topolino numero 189 del settembre 1972. Zio Vaperone ritratto sottratto, soggetto del Disney Studio Program, testo di Luciano Bottaro e Carlo Candy e disegni di Luciano Bottaro. Qui ci viene spiegato come è nata insomma l'idea di mettere questa storia, di inserire questa storia che appunto originariamente era del 1972 ed era stata ristampata soltanto una volta in Italia al 1982, quindi ormai 42 anni fa. Zio Vaperone ritratto sottratto, una storia molto bella con l'alternanza di colori in bianco e nero è una storia che devo dire mi è piaciuta molto, tra le due insomma, tra le due ristampe, tra la prima e l'ultima, questa l'ho preferita e non perché è una storia dei paperi ma perché veramente qui c'è il solito cliché dei bassotti che cercano di sbeffeggiare, di rubare qualcosa a Paperone, praticamente vogliono togliere di questo ritratto e chiedono in cambio 10 mila dollari e con questi soldi ovviamente loro cercano di andare addirittura in Italia perché appunto qui viene spiegato appunto nell'introduzione che Bottaro inseriva spesso città Liguri e quindi da Paperopoli vanno a Rapallo e la storia poi si svolgerà in Italia perché appunto Zio Paperone e Paperino vorranno andare a Rapallo perché ci sarà un tesoro perduto insomma e i bassotti però vorranno fregarlo sul tempo fregandogli anche dei soldi però poi non vi dico altro per non spoilerare ma posso dirvi che la prima delle due storie ristampate questa è quella più bella secondo me poi c'è l'introduzione ai inediti affari di famiglia qua ragazzi andiamo subito con le inedite di cui due dove viene rappresentato Malcolm che qui però viene chiamato Douglas cioè un cugino di Zio Paperone qui ci sono tante e interessanti cose scritte appunto nel redazionale che ci vanno vedere appunto il cugino di Paperone cioè Douglas o Malcolm io lo chiamerò Douglas perché qui lo chiamano Douglas e ci sono personaggi inquietanti che ci saranno nelle storie la prima è il figlio del Klondike il figlio del Klondike ragazzi è una storia di Lars Jensen con i disegni di Miguel Fernandez Martinez da 7 luglio 2008 una storia pubblicata su un periodico islandese e mi è piaciuta tantissimo perché ci fa vedere appunto il fatto che Zio Paperone troverà suo cugino Malcolm, scusate, Douglas, vabbè che in realtà come lui vuole risparmiare, vuole fregarlo sul tempo ma Zio Paperone non si farà fregare ci saranno anche questi personaggi, questi topi malvagi di cui uno ha un nome di Oliver insomma comunque è scritto tutto qui nell'introduzione inediti affari di famiglia perché in questa prima storia Zio Paperone appunto avrà a che fare con suo cugino Douglas e devo dire che mi è piaciuta tantissimo questa storia così come Zio Paperone in 2x1 dove è una storia un po' più corta pagina 41 in cui Paperone e suo cugino Douglas vorranno tagliarsi le basette e litigheranno molto tra di loro poi nuove ricerche genealogiche appunto l'albero genealogico dei Paperi vengono introdotti ancora altri personaggi e antenati parenti di Zio Paperone tra cui appunto Patrizio De Paperoni che è un anziano un antico anche diciamo così un antenato un parente storico di Zio Paperone che cercava sempre di risparmiare un po' come tutta la famiglia De Paperoni ovviamente nell'introduzione qui nell'editoriale più che editoriale e redazionale scusate ci parlano di questi due personaggi che sono apparsi poi nell'albero genealogico scritto appunto da in questo caso disegnato da Don Rosa quindi la prima storia riguarda Patrizio De Paperoni che è comunque un vecchio antenato un parente di Zio Paperone e l'altra invece abbiamo il Duca Bambaluc niente po' di meno che colui che qui nella storia ci sarà addirittura un Robin Hood mentre la prima dalle storie di questo taccagno parente di Zio Paperone ci saranno cioè praticamente ha ispirato lui in questo caso le storie Canto di Natale di Charles Dickens che è rappresentato qui quindi anche queste due storie ragazzi tanta tanta roba poi a pagina 60 ancora albero genealogico perché c'è una piccola storia dedicata a Paperino da piccolo con sua sorella Della che poi sarebbe la madre dei nipotini qui o qua dei nipotini di Paperino poi editoriale vabbè ancora questa editoriale scusate redazionale classici made in USA Le Fiave di Alabard questo mi ha colpito molto ragazzi l'introduzione a storie con Lilli e la Foresta Incantata quindi personaggi Disney che erano stati poi adattati dai cartoni ai fumetti quindi qui avremo Lilli avremo il Bianconiglio Dumbo diversi personaggi che abbiamo visto comunque da piccoli tutti abbiamo visto la strega cattiva abbiamo visto tutti insomma nei cartoni animati qui vengono riproposti nel fumetto quindi è stato molto interessante leggere un po' il passato di Alabard Lilli e la Foresta Incantata che era stata pubblicata nel 1955 con i testi di Del Connell i disegni di Alabard e a pagina 72 le tre fate buone e il ladro misterioso sempre con i disegni di Alabard però tra le due ho preferito la storia di Lilli a pagina 82 poi ragazzi dopo questa parentesi fiabesca e l'approfondimento su Alabard abbiamo a che fare con Gran Finale al Deposito una storia in cui appunto saranno protagonisti i Bassotti la banda Bassotti contro il Deposito Bassotti contro Deposito una storia che devo dire mi è piacita molto di solito sì mi piacciono spesso le storie con i Bassotti che tentano di beffare il nostro paperone tratta da da Super Disney numero 24 ma anche comunque questa è una storia scritta e disegnata da Don Rosa quindi abbiamo a che fare con un mostro sacro della Disney dei fumetti dei paperi insomma Bassotti contro Deposito una storia che mi ha colpito molto mi è piaciuta veramente tanto anche questa anche se non la reputa la migliore di tutto questo almanacco e poi c'è una storia più corta sempre sui Bassotti e Zevo Verone una storia di una pagina Zevo Verone è la trappola dei Bassotti poi andando avanti c'è un portfolio egmontiano in cui ci fanno vedere alcune vecchie copertine di varie edizioni di vari paesi tra cui qui c'è anche Gastone c'è un Bassotto c'è Amelia insomma un bel portfolio di Egmont è l'ultimo redazionale Topolino nel Melo con l'ultima storia che poi è la seconda ristampata dai vecchi almanacchi cioè Topolino e Conte di Montetristo che è ristampata dalla Marco Topolino numero 161 nel maggio 1970 con soggetto di Abramo Barosso il testo di Giampaolo Barosso e disegni di Luciano Gatto questa storia mi è piaciuta molto perché viene approfondito anche il personaggio di Gambadilegno sempre cattivo un po' in controtendenza con quello che abbiamo letto sul Topolino 3566 ma questa è una storia ovviamente del 1970 che approfondisce ancora una volta il rapporto non certo idilliaco tra Topolino e Gambadilegno anche questa mi è piaciuta però come detto tra le due ho preferito la prima storia ristampata questo è il prossimo numero ragazzi che uscirà esattamente tra tre mesi il 28 giugno io come ho sempre detto non fa niente che sia diventato trimestrale ma l'importante è che l'amalacco Topolino continui ad uscire verrà omaggiato Paperino per il suo compleanno ovviamente per i suoi 90 anni ci saranno anche storie d'America e ancora una volta si parlerà dei diari di Paperone qui c'è la striscia ovviamente del 1957 di Bill Walsh e con i disegni di Floyd Godfrey e insomma si chiude così questo amalacco con una copertina splendida come detto di Baccinelli e Perrotta e queste storie che mi sono piaciute tanto devo dire che la storia di stampata la prima Zevo Perone ritratto sottratto mi piace tantissimo è tra le migliori ma ciò che mi è piaciuto di più è soprattutto l'albero genealogico dei Paperi con Patrizio dei Paperoni e il duca Bambaluc dei Paperoni ma anche le storie del Klondike il figlio del Klondike e Zevo Perone in due per uno con l'approfondimento e con il cugino Taglas quindi ragazzi per me un ottimo numero fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo numero dal Manacco Topolino numero 18 il prossimo come detto uscirà il numero 19 uscirà il 28 giugno ci tocca aspettare tre mesi ma passeranno anche questi tre mesi ma l'importante è che al Manacco Topolino continui ad uscire in edicola e che tutti noi possiamo goderne ragazzi aspetto i vostri commenti mi raccomando fate i bravi e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi